25 rabbini da diversi paesi si sono ritrovati a Mumbai per celebrare la riapertura del centro ebraico nella cui distruzione avevano perso la vita 5 persone. La Chabad House, come chiamata la struttura, era stata pesantemente danneggiata dagli attentati terroristici che nel 2008 avevano fatto più di 160 morti e 300 feriti.